. GF VIP, Ivana offesa e insultata da Ignazio, sei grassa Vinzuiden. Gossip Grande fratello VIP, Ivana viene offesa in casa da Ignazio Moser ed è polemica. . Ivana Mrazova è una delle concorrenti più belle e amate dal pubblico, video, dal cancelletto Grande fratello VIP, anche se in queste ore la modella cieca è stata messa sotto accusa da cancelletto Ignazio Moser, il quale ha usato termini e parole molto forti nei confronti della bella Ivana, al punto da scatenare la reazione negativa da parte del pubblico stesso che segue il reality show Mediaset. . La stessa Ivana ha raccontato il triste episodio e lo ha fatto con tanto di lacrimoni agli occhi. GF VIP News, Ignazio Moser offende Ivana. . . Le gossip news di queste ore sul GF VIP 2017, infatti, rivelano che Ivana ha raccontato ai suoi compagni davventura che durante un confessionale che ha fatto con Ignazio Moser, questultimo non ha fatto altro che ripetere per tutto il tempo quanto fosse ingrassata. . Un commento decisamente offensivo nei confronti di una donna, soprattutto se viene detto con una certa insistenza, così come avrebbe fatto Ignazio Moser che in un certo modo ha umiliato la bella Ivana ripetendole in continuazione quanto fosse diventata grassa dallinizio del reality show fino ad oggi. . Offese pesanti quelle di Ignazio Moser nei confronti della bella Ivana, la quale nel momento in cui raccontava ciò che era accaduto nel confessionale non ha nascosto i suoi occhi pieni zeppi di lacrime. . A quel punto abbiamo visto che Giulia Delelli s'ha confortato Ivana, dicendole che non doveva assolutamente farsi questo tipo di problemi perché con il peso forma raggiunto era diventata ancora più bella. Ivana in lacrime dopo le offese di Ignazio Moser. . Grandi complimenti anche da parte di Lorenzo Flaherty, il quale ha sottolineato come lo scorso lunedì sera fesse bellissima con quellabito che aveva delle trasparenze giuste e che mettevano in risalto il suo fisico da dieci e lode. . Insomma Ignazio questa volta ha davvero esagerato e deve fare così i conti con il pubblico social che segue il GFVPinTV, il quale non ha per niente gradito ciò che ha detto nei confronti della bella modella. . In molti in queste ore sul web stanno puntando il dito contro Ignazio Moser, video, chiedendo addirittura che il ragazzo venga punito dalla produzione per questa mancanza di rispetto nei confronti di Ivana, che sembra avere tutte le carte in regola per arrivare alla finalissima e vincere il premio. Anche se lideale sarebbe che Ignazio chiedesse semplicemente scusa a Ivana per le sue battute squallide che hanno fatto indignare il web. .